Sono amareggiato. Con queste parole il sindaco di Pineto, Luciano Monticelli, commenta il procedimento avviato per la rescissione del contratto del manager dell'Asli di Teramo, Giustino Varrassi. È una decisione che amareggia perché arriva tardi, quando è già stata concessa la distruzione del San Liberatore di Atri senza che nulla si muovesse. Sono stato forse l'unico sindaco a dare battaglia a Giustino Varrassi e in più di un'occasione ho dichiarato di sentirmi solo nella risoluzione di questa problematica. Ora, pochi giorni da quello che è accaduto al Mazzini, la Giunta regionale ha deciso di avviare il procedimento. Credo che in questo caso l'unica cosa da dire sia che assieme a Giustino Varrassi debbano andare a casa anche tutti coloro che finora lo hanno difeso. La richiesta di revoca a Varrassi arriva dopo l'acquisizione degli atti di indagine presso la procura di Teramo che riguardano il manager, a distanza di pochi giorni dal sequestro del reparto di fecondazione assistita dell'ospedale Mazzini e a pochi mesi dai due avvisi di garanzia giunti nell'ufficio dello stesso direttore generale.